Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Lone Survivor Siamo arrivati in un nuovo episodio, siamo arrivati all'episodio 6 Siamo arrivati in un nuovo episodio, siamo arrivati all'episodio 6 Sì, siamo in un nuovo episodio di Lone Survivor Ci sono tutti questi fan che mi stanno seguendo Ho davvero tante cose da dirvi perché sono successe tante cose come vedete dalle statistiche Sono morto tantissime volte, ho ucciso un paio di persone Forse manco una, forse solo una E sono successe tante cose, veramente Prima cosa che volevo dirvi, hanno resettato la mappa Hanno resettato la mappa di sopravvivenza e quindi ora potete trovare nuovi minerali Potete trovare molti più minerali nelle caverne Perché hanno resettato e aumentato lo spawn rate degli ore, dei minerali Poi cos'altro che devo dirvi Abbiamo questa armatura Protection 4 Vi ricordate i libri che avevo detto che non potevo mettere perché erano rovinati? Sì, quei crafting li ha tolti dalla Mystery Crate perché non erano giusti, non erano messi bene Non funzionavano e quindi li ha rimpiazzati con libri che possono funzionare E a me mi ha dato due Protection 4 che ho messo nella chest e nei boots E quindi sono tipo Full Protection 3, 4 Ho 8 Gapple, ho 2 Godapple Ah sentite bene, 2 Godapple, notch apple, non le normali Gapple Sono quelle che ti danno resistenza, regeneration per 30 secondi Quelli invincibili diciamo Che si possono mangiare una volta ogni ora Poi un'altra cosa, volevo ringraziare due persone prima cosa Volevo ringraziare il moderatore Deadblade che mi ha regalato Ah ho comprato un'altra banca Ho comprato un altro spazio per la gamba Per la gamba Per la banca Però no, aspetta, sì non ne ho altri Pensavo di averne comprato un altro e mi ero dimenticato Sì mi ha regalato una cosa Deadblade811 Che è il moderatore di questo server Mi ha regalato un libro sharpness 4 Un armatura Protection 4 unbreaking 3 Un pantalone Protection 4 unbreaking 3 health boost Sentite bene, health boost è un custom enchant E poi mi ha regalato un diamond boots Protection 4 Depp Strider 3 unbreaking 3 E piromania 4 E mi ha regalato un elmeto Protection 4 respiration 3 Quindi posso stare sott'acqua per moltissimo tempo E poi mi ha regalato lo Zeus L'arco power 4 Zeus 3 Che è un altro custom enchant E la spada sharpness 4 Che io ho sharpness 3, curse 3 Perfetto Ora andiamo a capire bene cosa sono questi custom enchant Dead Strider è quello che ti fa correre velocissimo nell'acqua Poi gli altri sono Allora, vediamo se qua ce n'è uno Ecco, health boost è quello che ti dà la vita Te ne dà molta di più Ne avrò molta di più Adesso quando andrò a equipaggiarmi questa armatura Vedrete che ne avrò molta di più Avrò più cuori nella barra dei cuori Sarà tipo gli epixel E un altro custom enchant Qual era? Che non mi ricordo Ah, lo Zeus alla fine È tipo come pensavo Cioè, voi tirate con l'arco E il tuono Becca la persona Se la beccate con la freccia Quindi è fantastico Ok Blood Tears No C'è Ecco, Pairomania Ecco, Pairomania è 4 Il fuoco Invece di danneggiarmi C'è una possibilità che è micoso Che è micuri Ed è una cosa fantastica Quindi sì Lo ringrazio tantissimo Perché è un'armatura fantastica E mi serviva Visto che qui per essere forte Deve avere il custom enchant O se no anche le god apple Poi un italiano Un ragazzo italiano Che è un mio fan Si chiama Dark Delta Fire Mi ha regalato queste piccole cose Che sono fantastiche Mi ha regalato un piccolo diamante Efficiency 4 Fortuna 3 Quindi Porca miseria È fantastico Perché prendo tantissimi diamanti Se trovo il diamante Perché io avevo l'efficiency 3 E lui mi ha regalato Un'efficiency 4 Fortuna 3 Mi ha regalato un libro Sharpness 3 Mi ha regalato una Fire Aspect 2 Looting 2 Sulla spada in diamante Quindi finalmente posso farmi Una spada in diamante Con la Fire Aspect E un power 2 Quindi lo ringrazio tantissimo Perché Veramente È stato davvero gentile A regalarmi tutto questo Gran bel loot Quindi grazie mille Dark Delta Fire Perché È un bel po' È un bel po' Di roba fantastica Poi niente Mi sono fatto la god apple Perché sono stato ucciso Da un italiano Che va alla god apple E io non avevo regeneration Quindi mi ha ucciso con la god apple Anche se poi non ho droppato niente Perché avevo la sign of keeping Quindi mi sono detto di fare più god apple Perché sono molto importanti Anche se ancora con questa texture pack Non riesco a capire mai Quando uno ha mangiato god apple o no Non riesco mai a capirlo Perché Non so la texture Ancora Che 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 grafica tiene Cioè Che grafica Cioè I particles Non so I particles Della god apple In questa texture Come sono Non lo so E quindi Mi ci vorrà un bel po' Per esercitarmi Ok Ci siamo fatti L'enderpell Per inseguire la gente O scappare Quando troviamo la gente Molto forte Più di noi Che c'è il custom enchante Questo è il nostro Xpear worker E questa è la spadaferra Quella che adesso mettiamo giù Perché tanto Non ci serve più Ora ci mettiamo L'armatura nuova E questa qui La metto giù invece Perché Questa sarà Quella di riserva Per quando morirò O si distruggerà l'altra Per riparare le armature Basta mettere Un'armatura enchantata Di fianco a un'armatura Di serie E la riparate E siete a posto Un'altra cosa Che volevo dirvi Che cercherò Di farvi vedere I custom enchante Di quando li compro Ma costano tanti E non c'ho un grinder Per fare i custom enchante Facilmente dovete Trovare un grinder Nel mondo di sopravvivenza E salvarlo Nelle coordinate Ah e poi Non si può più fare Il team adesso Manco di condividere Un grinder Cioè un mob spawner Non potete Manco più condividere Un mob spawner E venite bannati Se lo fate Ora Volevo farvi vedere L'ultima cosa Che hanno aggiunto Che è la nuova charm Che si chiama Charm of Tracking Ora Questa charm Costa 5 teste E vi Appena la premete Vi teletrasporta Subito A 500 blocchi Alla persona più vicina Quindi Questa cosa è fantastica Cercherò di usarla In questo episodio Perché La gente non ha il tempo Di scappare Che tu sei già vicino a loro Perfetto Ora mettiamo giù Allora Prendiamo questa Protection 4 Come vedete Che adesso vedremo Sti bellissimi Custom Enchant Metto giù Lo Zeus 1 Power 3 E metto Power 4 Zeus 3 Fire Aspect Ok Prendo questa E prendo questo libro Così faccio Una Sharpness 4 Curse 3 Fire Aspect 2 Lute in 2 E poi qui Eh prendo il piccone Questo lo metto giù Metto questo bellissimo piccone Fcc4 Fortune 3 E siamo a posto Mettiamo giù questa armatura Queste sono le mie ricchezze Diciamo Questa armatura Me la sono fatta da solo Protection 4 Così via Vabbè Le due libri Protection 4 Le ho trovate Aprendo la cosa Aprendo la Mystery Crate Ora come vedete Guardate un po' Mi si sono aggiunti i cuori Fantastico 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 Ora ho tantissimi cuori Cioè ho quasi Full Vita Cioè sono quasi come Le UHC E i Pixel Fantastico Posso correre veloce Nell'acqua Il fuoco mi può curare C'ho tanti cuori in più Però mi servono E ho Respiration 3 Però a me mi servono Tantissimi custom Enchant Importantissimi Anche sulla spada Sulla spada L'unica cosa bella Che c'è il curse 3 Ma me ne servono altri Ce ne sono tanti belli Come nell'armatura C'è l'Hitter Aura Che ti difende Ti dà un casino di resistenza Non mi ricordo male Non so se è così C'è l'Assassin Che si mette sulla spada Ed è potentissimo Andiamo a vedere l'Ultimate Ecco l'Assassin Assassin dal Poison Effect Cioè da Via Velena Abbiamo poi La Life Essence Che tipo Che quando ricevi danno Riguadagni Riguadagni vita E tutte queste Custom Enchant fantastici Che dovrò fare Prima o poi E che L'Xpear Worker Li devono ancora risolvere Io non posso farmare In AFK Quindi non posso farmare Normalmente Ora ci siamo messi Tutte le cose fighe Dobbiamo andare a preparare La spada Ci abbiamo Un Power 4 No Un Power 4 Zeus 3 Abbiamo un po' di frecce Ne abbiamo tante Cerchiamo di prendere Un Envy L'Envy l'ho distrutta Perché mi si è distrutta Quindi ne facciamo un'altra Ok Spero che non vi diano Fastidio i miei scritti Perché A me non mi danno fastidio Sinceramente Perché sto giocando Sono concentrato E sto registrando Quindi A me non danno fastidio Sinceramente Poi vabbè Comunque le bussole L'hanno cambiata Adesso la bussole Ha integrato Il fatto che Devi trovare la gente Con la tua stessa armatura Quindi se voi siete Full Iron Dovreste trovare Sempre Full Iron E basta E non Full Diamond Eccetera eccetera Non dovrebbe capitare Perché ormai è integrato Allora abbiamo messo tutto Ah questo In questo Diamond Elm Ci avevo messo Un Bad Vision Il Bad Vision Ti dà tipo La Night Vision Per sempre E alla fine L'ho tolto Perché mi dà un po' fastidio Sempre a Night Vision Ho sbagliato a metterlo E il metto lì Adesso noi Prepariamo la spada E andiamo a comprare Subito un Supply Drop Questi Il Supply Drop Non manca mai E ci andiamo a comprare Vediamo un po' quante Andiamo a comprare Due Sharp Off Tracking Tracking E vediamo un po' Di fare qualcosa In questo episodio Allora Supply Drop Ok qui E Qua Sharp Off Tracking Sharp Off Tracking Perfetto Ho due Sharp Off Tracking E la Supply Drop Che adesso andiamo a chiamare E ci ho anche l'Envil Dobbiamo preparare Adesso una nuova spada Ci buttiamo subito What? La barca Ci buttiamo subito nel mondo Siamo a 4650 blocchi Vicini a uno Facciamo l'MLG Water Nice Ok Successa una cosa pazzesca Non posso mettere La Fire Aspect 2 L'Utine 2 Sulla Sharpness 4 Con 3 Perché il gioco mi crasha Cioè è una cosa Che fa davvero ridere Mi crasha il gioco Quando unisco Queste due spade Quindi ho fatto Solo Sharpness 4 Con 3 Un iscritto Mi ha buttato Blocchi In video zone In crisi Mi ha buttato il block 3 Vabbè non mi serve per ora Perché tanto c'è il 22% Proviamo a metterlo qua No non ha funzionato Perfetto Ok niente Non posso fare quella spada Perché non lo so Proverò più avanti a fare Vabbè mettiamola giù Non ci serve Più di tanto È solo Fire Aspect 2 Era solo per il Fire Aspect 2 Adesso vi faccio vedere Adesso sto Fire Aspect 2 C'ho questa Fire Aspect 2 rotta Benissimo L'andiamo adesso a riparare Ma perché mi buttano la sporcizia? Ecco Mi buttano la sporcizia Così poi vado a buttare Per sbaglio la roba interessante Porca miseria Allora Sì Abbiamo fatto tutto Dobbiamo chiamare una cosa Una supply drop E andiamo a unire subito questa spada Facciamo di nuovo Il coso Sì Ehm Facciamo subito questa spada Così vi faccio vedere Per riparare le spade con le enchant Basta fare così Vedete A posto L'abbiamo riparata Come vedete E ora è a posto così Ok Allora Adesso Prima cosa Dobbiamo chiamare un supply drop Uno è a 1200 blocchi Perché è a 1200 blocchi uno? Non so Proviamo a tornare lo spawn Ok Mettiamo giù Mettiamo giù L'anvil E andiamo Perché c'è qualcuno vicino a noi In questo punto qui E ora dobbiamo andare a trovarlo Perfetto Non uso manco la charm of tracking Perché sappiamo perfettamente Che è vicino a noi Ehm Deve essere da questa parte Non sbaglio Ok Ora non posso più Trovar Usare la bussola Ma aspettiamo Prima facciamo una kill qui vicino Perché se c'è qualcuno qui vicino Prima devo ucciderlo Dopo chiamiamo le airdrop Perfetto Ha cambiato mondo 3800 blocchi È il più vicino Quindi Chiamiamo subito Un supply drop No Vai Perfetto Chiamiamo un supply drop Ok Devo fare anche le mele d'oro Ma Non riesco mai a fare le mele d'oro Sapete il modo No cacchio Viene sopra l'albero No Eccolo Fantastico Oh Instant health Instant health Una ferra aspect 1 Una ferra aspect 1 Interessante Va bene Abbiamo fatto Abbiamo trovato un'altra Instant health che è comoda Allora Io vorrei farmi le mele d'oro Ma il problema Sapete qual è È che non riesco a trovare le mele Perché questi alberi sono modificati Non capisco se devo buttare giù Tutto il tronco Perché vedete che sono modificati gli alberi O forse questo non è il posto esatto Dove trovare il loot Ma non lo so Sinceramente Quindi prima o poi devo farmi le mele d'oro Appena trovo delle mele Spero di uccidere qualcuno Che ci abbia tantissime mele Normali Allora Il più vicino è qua 3800 blocchi Usiamo la sharm of tracking Ahia Non pensavo che ti butta così in alto Perfetto Siamo a 500 blocchi da questo Come vedete Questa è la sharm of tracking Costa 5 test Non è tanto worth Perché Uccidendo qualcuno Ti droppa una testa Quindi se usate questo È solo per fare le kills La barchetta Ne facciamo tante Ne facciamo tante Così non scappa via No Ok non si sta muovendo Si era anche fermato per un po' Quindi sembra Che non sappia Che lo sto seguendo Cerchiamo di usare anche il power 4 Non voglio andare subito di spada Peccato che per adesso Non posso mettere quella fire aspect Perché mi grasso al gioco Mi dice che ho Forse il client moddato Ma non è il client moddato È il server che è moddato Ok Andiamo All'avventura Deve essere davanti a noi Oh si è fermato Si è fermato Quando non leggete niente sotto Lo dirò che si è fermato E mettiamo le godepo Non si sa mai Eccolo qui È qui da qualche parte Dove? È qui da qualche parte È davanti a noi È davanti a noi Speriamo di non trovare Spero che non sia forte Allora dovrebbe essere il minimo Ah è qua sotto Deve essere full diamond Eccolo What? È un killer Porca miseria Ho trovato uno forte Ho trovato uno forte Che sta facendo? Sta rigenerando Ok Fa tanto male l'arco Si però non gli sto facendo niente Si si Non gli sto facendo niente Mangiamo a god apple Ok Vai vai Dai che ce la faccio Dai Vieni qua No Sta scappando Sa che ho mangiato la god apple Niente fulmine Niente fulmine Uh Ho fatto tanto danno No non penso C'è l'armatura esistente Questo L'ho dovuto mangiarla per forza Perché questo è forte Ma c'ho il power 4 Non fa niente Mangia perché vuole rigenerare Missile Eh no È messo bene Guardate È messo benissimo È messo benissimo Il problema è che la mia spada non è tanto forte Vedete Questi sono i combattimenti ormai in full diamond Oh mio dio Ci sto provando Ma Sarb nel squadro Ma Non c'ho tanto Ok Vediamo Instant health Si sta tutto Bacchiando Oh Oh non riesco a itarlo Ma che What the fuck Non riesco a itarlo Non riesco a itarlo Poi io sto bruciando Ma tanto c'ho la fire resistance Da god apple Eh mi sa che ci muoio Guardate quanto l'ho lasciato Oh Mamma mia Era 30 Era 30 GG È rimasto 30 Porca miseria Ho raccolto tutto Tutto per terra Cioè Ho raccolto tutto Il raccolto per terra E non sono riuscito a ucciderlo Cioè Impressionante Era messo troppo bene Vedete Ho avuto la sfortuna di beccare uno con Come si dice Con i custom enchant migliori dei miei Ma sapevo Perché era killer Sapete cos'è killer È un rank altissimo Mi sa che dovevo semplicemente scappare Ma vi volevo far vedere un paio di battaglie Anche in cui perdo Perché Non posso sempre vincere Questo è il rank 5 Il killer Peccato Eh Ci ho provato come avete visto Ma Non ho un'armatura così tanto potente Qualche ruolo quanto l'ho distrutta Porca miseria Allora c'è un'altra Sharm of Tracking Ora usiamo un'altra Sharm of Keeping Quindi adesso non ne abbiamo più Questa instant alt è stata tipo Decisamente inutile La Godepo l'abbiamo mangiata Adesso non possiamo più Mangiarne altre Perché deve passare un'ora Non è servita niente Pensavo che inseguendolo Quella Cioè Quando ho mangiato a Godepo Continuavo a colpirlo E si era avvelenato col curse Pensavo di ucciderlo E invece non è successo per niente Anzi Mi ha ucciso lui Invece Per fortuna che adesso morendo Cambio spone Quindi Non devo più preoccuparmi Forse di lui Spero di non incontrarlo più Allora Abbiamo messo tutto Qua abbiamo la Sharm of Keeping Qui teniamo la Sharm of Tracking Adesso la usiamo Siamo messi bene Sì Il problema è che non ho le mele Per fare le Gapple Comunque Anche con le Gapple Mi avrebbe ucciso Non cambia niente Eh Giocare con i Custom and Shunt È un po' difficile Perché Devi cercare di farmare davvero tanto Per fare i Custom Tanti Custom and Shunt potenti E E cos'altro Sì E avere i migliori Quelli migliori Non penso di essere Mela giocata male Comunque avete visto Lo Zeus È fantastico Cioè Li distrugge Con Cioè Li distrugge Diciamo che Li Li fulmina È fantastico Mi sono mangiato anche la Godapple Giusto per divertirmi un po' in battaglia Non perché sapevo di vincere Già da quando ho visto Garra anche Killer Bah E comunque Avevo trovato un suo mob spawner Ci credete? Perché Ha fatto le scale Come avete visto Chi è che fa le scale Per una stupida caverna? Uno invece Che ha trovato un mob spawner Quindi Quello era la sua zona del grinder Cioè Del grind E Sì Fantastico Solo che vabbè Non è servito a niente Perché l'ha difeso alla perfezione Chi se lo ricorda ora il posto Ora ho cambiato zona Andiamo a cercare Andiamo da questa prossima persona Oh Sono a 100 blocchi da 1 Porca miseria Spero di fare una kill Dovevo droppare almeno un'altra Sharm of Keeping Sennò sono in perdita Spero veramente che non sia Così tanto forte Eccolo E Wanderer Già questo Sembra essere Una cosa positiva Anche se quelli Wanderer Sono sempre forti Non c'ho più le frecce No E' qui sotto E' qui da qualche parte Eccolo Eccolo Ma è un fan What the fuck Ma Killer Cosa Vuole fare screen Lol Non posso Dopo devo ucciderlo Però devo fare screen C'è Faccio screen Ma dopo devo ucciderlo E no Vieni qua C'è Non posso Mi spiace Non posso fare team C'è scritto nel regolamento Se mangia Good Apple Sono morto Ok Perfetto Good Fight Le scrivo Good Fight Spero che non si arrabbi Ma Almeno le ho fatto fare screen Grazie mille Come si dice Grazie mille Killer Chaos Ecco Come si dice Grazie mille Killer Chaos Sapete perché? Perché grazie a lui Ho fatto due teste E un'altra Sharm of Keeping Quindi grazie a lui Ho potuto fare Una cosa Una Sharm of Keeping Comunque come avete visto L'ho shottato Perché non aveva Custom and Shunt Questo E come ci si sente Ad essere Full Diamond Enchantati Con Protection 4 Eccetera eccetera Ed essere colpiti da uno Con il Custom and Shunt Vabbè Non è che ci abbia Non ho un Custom and Shunt Fortissimo sulla spada Ma come vedete Non mi ha fatto niente di danno Anche se stavo bruciando C'ho solo il Curse 3 Che avvelera nel tempo Peccato che va La Sharm of Keeping Lui Se no Mi sarei fatto un'armatura in diamante Peccato Oh Siamo entrati ai 100 blocchi di qualcuno E adesso la barchetta What È Settler No scappiamo Però Non c'è il Custom and Shunt Non c'è il Custom and Shunt Quello Perché non corre veloce Sull'acqua Cacchio Non c'ho manco l'arco Vediamo che sta facendo Mi segue o non mi segue Sì mi sta seguendo Vediamo No Non mi sta seguendo Non so che cacchio fare Allora C'ho due E TGP E Settler Eccolo là Vediamo se mi segue Messo che mi segua Sì sì mi sta seguendo Orca misera si sta messa Mi sta seguendo Proviamo a combattere E a scappare Ci proviamo Facciamo una cosa Stare scappando Interessante È un vai e vieni Proviamo a ucciderlo dai Allora ci proviamo Se vediamo che perdiamo tanta vita Scappiamo via Butto via Butto l'Hender Pork Non si è accorto Sì si è accorto Perfetto Grazie per le frecce Non si è Ok Vai Mi servono le frecce qua Mi servono le frecce Voglio fulminarlo No Qua Grazie No Non si è fulminato Peccato Ok Non sembra essere messo bene Va bene Perfetto Non è tanto bravo con l'arco Una cosa molto importantissima È rigenerarmi L'avete detto anche voi In questo server What? Ah lui mi ha luccato Mi sa Ok Dai Voglio solo intossicarlo Vedete Solo intossico È meglio Prima o poi si stanca E viene di spada Dai 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 che ce la facciamo ucciderlo No aspetta Mi sta facendo perdere Troppa vita C'è qualcuno Che ci sta frecciando Mi sa Ok togli tanto Togli un bel po' È arrivato What the fuck È arrivato uno Ma chi è questo? Chi è questo? LOL Vieni qua Che ti ammazzo Lo ammazzo gratis questo Grazie Mi ha dato una testa A charm of keeping Niente LOL LOL È arrivato questo A caso Ma for che questo è comunque resistente C'ha un arco potente Ecco perché sta andando solo di arco Non riesco a ucciderlo C'ha un'armatura troppo resistente Questo Sì Ce l'ho fatta Nice Ho fatto due decisioni in una volta GG Good fight Nice Che bello Aveva un'armatura resistentissima Questa Avete visto Mamma mia Mi sa che Mi sa che aveva Un cast Aveva dei cast Sull'armatura Ma non sulla spada E sull'arco Forse sull'arco qualcosa No Sull'arco c'è lo Zeus Non mi ha mai Tirato il fulmine Quindi niente Wow Che bello Mi sono fatto due kiss Una volta Ma che cacchio Ermac mi ha ucciso Manco ci credo Wow Sì ma che cacchio ci facevi Cioè Questo qua è arrivato in mezzo A due che combatte Due full diamond Che combattevano E comunque mi manca poco Per Per Cosa Per rancare Un altro bel comando È questo Slash Summoner Summoner No non è summoner Ah showcase Showcase Che è summoner Allora showcase Questo Questo è bellissimo Vi fa vedere tutte le kiss Che avete fatto E quando le avete fatte In questo Liam Collin L'ho ucciso Con la god apple Solo che non era Messo bene di armatura E neanche io Non ero in quei tempi Messo bene di full diamond E Mi ha droppato niente Aveva la charm of keeping Quindi ho sprecato una god apple Con questo Queste invece sono le tre kiss Che ho fatto ora È fantastico vedere Diciamo La lista trofei Diciamo Cioè Avete tutti i trofei Con le date I cuori E tutto È fantastico Veramente Oh C'è qualcuno davanti a noi Ha 182 blocchi Abbiamo le enderpearl Pronte per scappare È davanti a noi Dov'è? Non lo riesco a vedere Cioè Siamo quasi vicini Ma o sta scappando O non so Perché Avrei già Cioè Sarei già entrato nei suoi blocchi Invece sta scappando Mi sa Eccolo Sono entrato nei suoi blocchi 100 blocchi Dobbiamo stare attenti Perché se trovo uno fortissimo Io sono Spacciato Ma Ci proviamo Anche perché Quelli fortissimi Con i custom shunt fortissimi Distruggono l'armatura E non è tanto worth Cioè Ce l'ho un breaking E me l'hanno quasi distrutta Cioè Il primo che mi ha ucciso Me l'ha quasi distrutta l'armatura Eccolo È survivor Secondo rank Ok Mi butta giù Mi butta giù Mi butta giù Mi butta giù Ah È fun Lal Lal Ciao Vuoi fare screen Se non vuoi fare screen Ti ammazzo Ciao dark sniper Ah screen Nice Vai screen Bello il mantello Dark Davvero bello bello Ok Stiamo attenti Ok 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 What Si fa ammazzare Ah perché c'è la Sharm of keeping Ma dai Good fight Good fight Ok Vabbè Vediamo Oh peccato Niente Sharm of keeping Mi son fatto Lui ce l'aveva Che furbo Si è tolto l'armatura Pensavo Oh mio dio Questo qua mi troppa l'armatura in diamante Invece no Fa niente Anche questo come vedete Non aveva custom In chance Se no avrebbe provato a combattere Comunque mi fa piacere Che state supportando la serie E Continuate a dirmi nei commenti Tutto quello che vi passa per la testa Lasciate un mi piace Se volete vedere i nuovi episodi E il continuo della serie Cercherò di far adesso di nuovo Ritornare a fare altri video su minecraft Perché da un po' Che faccio solo uno survivor Perché Non lo so Mi ero un po' Drogato Un po' Su questo server Ora cercherò di ritornare a fare Anche altri video su minecraft Non vi preoccupate Siamo entrati nei cento blocchi Di qualcuno Lo stavo seguendo E stava scappando Oh mio dio Questo vuole combattermi Ok finalmente combattiamo Dai Per un po' combattiamo Porca miseria Perché sta scappando Ok Forte Oh mio dio Abbiamo tutti e due lo Zeus Solo che lui ha lo Zeus più potente Cioè Esplode il creeper davanti a me Nice Mangia la god apple Mi sa Ok Perché Cosa fa? Perché non mi combatte? Pensavo era hunter Dice Ok potrebbe mangiare la god apple Oh mio dio È forte È forte È forte È forte Sì L'ho ucciso Non ci credo Non ci credo Oh my god Gigi good fight Aveva Aveva la roba Oh mio dio Non ci aveva la charm of keeping Guardiamo Power 5 Buttiamo via Oh due zaini Wow Oh mio dio Aveva uno stivale grinder Andiamo via Andiamo via da qui Buttare questa fire aspect Questo Ah non aveva la charm of keeping Non ci credo Non ci credo Non ci credo Scappiamo Non ci credo Per questo era tipo agitato Era settler Vediamo Abbiamo ucciso jack and james Ha scritto qualcosa Ha scritto gg Ha scritto gg Mamma mia Vedete Queste sono le persone che adoro Anche se hanno perso roba fantastica Non si lamentano E non piangono in chat Stanno zitti E dicono gg Dovreste fare anche voi Invece di scrivere Nyeh Vaffanculo Erma Vaffanculo Qui eh Mi ha ucciso Quell'hacker XD Mi ha ucciso Quello No Perché No Perché questo full diamond Del cazzo mi segue Non dovete fare così Dovete scrivere gg Good fight Sempre Sempre Anche se vi uccide un full diamond E vi distrugge Allora Mamma mia Non ci credo Fantastico Vediamo Protection 3 Death Strider 3 Unbreaking 3 Ok Non era un'armatura La sua armatura principale Ma era tipo la sua armatura da grinder Sharpness 4 XP Babe la chiamata Sharpness 4 Unbreaking 3 XP Drain 3 Mamma mia XP Oh mio dio Curse 4 Elforge 2 Oh mio dio Attendiamo che andiamo a vedere il custom in shunt Power 5 Flame 1 Unbreaking 3 Infinity 1 Swarm 3 Zeus 2 No Fantastico Well 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 Sharpness 5 Unbreaking 3 Fire Aspect 2 Elforge 2 Purge 1 Lifesteal 2 Mamma mia Questa se la unisco La curse 3 È una figata Fire Protection 3 Unbreaking 3 Aquafinity Ok Protection 3 Firemania 4 Fearless 3 Fearless Fearless è un Enchant leggendario Lo sapete Deve essere leggendario Health Boost 2 Protection 4 Allora Aveva Aveva Oh 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 Mio dio Questo qui è morto per un bug di minecraft Per un glitch Due volte Per questo ha troppato due volte la sua testa E quindi ha sprecato anche la cosa La Come si dice La La Charm of keeping Sapete perché? Perché ovviamente su server è ancora in beta E questo è uno dei bug più fastidiosi Ho visto anche un moderatore che è morto e ha perso tutto Mamma mia Mamma mia È stata una sfortuna per lui perché potrebbe succedere anche a me Quindi Potrebbe succedere anche a me Quindi non è Cioè Non è detto che succeda solo a uno Potrebbe succedere anche a voi State attenti Non portatevi sempre tutto Per un bug potreste morire anche se avete la Charm of keeping Morite due volte Perché come vedete si è incastrato nel terreno Anche se comunque Forse l'avrei ammazzato io Perché non c'aveva l'armatura resistente Ce l'avevo più resistente io E Allora Mamma mia Aveva una pozione Splash potion weakness Che Che dura tre minuti Aveva nove gap hole Fantastico Non aveva xp worker Quindi non ha perso xp worker Non li aveva E Quattro teste Aveva due zaini Guardate Due zaini Che adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro Oh mio dio è vero Non abbiamo ancora visto se c'è qualcosa dentro Cioè Pazzesco Guardiamo subito i custom enchants Che abbiamo trovato Oh Uno mi ha troppato la testa Grazie mille Allora Elforged Weapons automatically repair themselves When used in combat Quindi Elforged Che è massimo livello Dieci Si Si rigenera in continuazione E E Fantastico E Quindi questo piccone È invincibile Cioè Non si distrugge mai È una cosa pazzesca E Lifesteal Poi Fearless C'abbiamo il fearless Every time you take damage You have a chance to dispel Ok Questo divide tipo il danno che ricevo Non ne sono tanto sicuro Poi abbiamo Gli elite enchantment Che sono Cioè Non so cos'è che ho trovato Nell'elite enchantment Holy smite Ho trovato Holy smite Cos'è Non so cosa sia E Holy smite Non so cos'è E Andiamo negli unique Vediamo un po' qui Non ce l'ho No Non c'è Che cacchio Sto guardando Holy smite E Holy smite Deve essere qui da qualche parte Ah vabbè L'XP drain Ve l'avevo già detto È uno che ti dà un casino di esperienza Killando i mob Noi ci abbiamo Dov'è che ce l'ho Ce l'ho sulla spada XP babe Sì XP drain 3 Cioè È pazzesco Veramente Poi abbiamo Demon Scythe Life Essence Blindness Ah la Battle Cry Ecco La Battle Cry ce l'ho su Lush Come vedete Chance to remove negative debuffs From yourself While you're fighting Interessante Tipo se mi colpiscono Mi danno l'effetto Del Wither Aura Io posso togliere questi effetti Usando semplicemente L'ascia E posso controbattere Con l'attacco Con l'ascia E allora abbiamo 9 mene d'oro Abbiamo una god apple Mettiamo adesso giù Le altre cose No aspetta Dividiamo qui Perché adesso Dobbiamo andare a vedere Gli zaini Gli zaini Che non abbiamo ancora guardato Poi ci abbiamo Mamma mia Sto piccone fantastico Porca miseria Abbiamo sto Efficience 4 Che adesso lo mettiamo giù Questo Efficience 5 E force 8 Si riparerà Per sempre Non si distruggerà Mai Da quel che ho capito Mai Mettiamo giù questa testa Che mi hanno regalato Grazie per le teste Mettiamo ordine Questa spada dorata L'avevo trovata Aprendo Avevo trovata Aprendo Le mystery crate E adesso Guardiamo subito Nei backpack Cosa abbiamo Allora Andiamo a vedere subito Cosa abbiamo Nei backpack Ho fatto vedere Il custom enchant Si volevo stare Volevo vedere Le borse È vero Le borse Che ho E guardate un po' Cosa ho visto Ci abbiamo 6 bottiglie di esperienza 60 di ferro 23 blocchi 8 blocchi d'oro 8 lingotti d'oro C'ha un enchanted book silk touch Questo penso sia rarissimo Questo deve essere rarissimo Cioè Bisogna farselo con Le librerie Abbiamo 12 diamanti 16 smeraldi Che però non so cosa servono E glowstone dust Che saranno quelli che aumenteranno La percentuale sui libri Per i success E un efficiency 4 Quindi fantastico Prendiamo subito questa roba importante Anche i lapis lazuli Sono molto importanti Per il coso Per Per l'enchanting table E li posiamo giù Li mettiamo qui Mettiamo qui la roba Mettiamo qui Qui E i diamanti E mettiamo qua il silk touch Questi qua sono dei libri Che ho ottenuto Perfetto E nell'altro libro invece Che è un altro normale backpack C'è un protection 3 Diamond leggings Un'armatura di diamante Una saddle E una smite 4 Looting 3 Questa E smite 4 Serve per Per What? Che cosa fa? Cosa? Sar Ah mi ha dato uno smeraldo Mi ha trollato Mi ha trollato Pensavo questa charm of keeping Grazie mille per lo smeraldo Cosa? Se sta ridendo XT Cioè Mi hai trollato Ok C'aveva la smite 4 Looting 3 Che è una buona spada Per la XP Cioè per fare XP E niente E' un protection 3 Che non serve a molto E' un semplice Sono dei semplici pantaloni Quindi Mettiamo qui Qua abbiamo il nostro zaino Ora abbiamo anche questi zaini in più Che ovviamente non possiamo Non possiamo Metterli nell'inventario Quindi O li buttiamo O li teniamo Qua abbiamo l'esperienza Abbiamo il piccone Prendiamo la glowstone dust Che è importantissima E la mettiamo qui da qualche parte Qua mettiamo il piccone Qua mettiamo la glowstone dust Qui abbiamo comprato un'altra cesta Per metterci tutta la bellissima roba Che ci siamo fatti in questa battaglia Veramente E' stato Una figata Pazzesca Veramente Mi è piaciuta davvero tanto Questa kill Mi sono fatto un bel po' Di loot Fantastico Ok Mettiamo via queste cose Uno mi ha regalato Mettiamo il nostro zaino Uno mi ha regalato Delle angurie Come vedete E Mettiamo via Sì Qua mettiamo invece L'esperienza E gli smeraldi Qua abbiamo la god apple Dovremmo aver diviso tutto Giusto? Sì Dobbiamo aver diviso tutto Sì I zaini adesso li mettiamo qui E ormai Devo cercare di fare un po' più Di ordine Perché ora Ho tre zaini E devo cercare di capire Come usarli Perfetto Quindi Spero che vi sia piaciuto Questo episodio Sull'on survivor Ditemi cosa ne pensate Lasciate un mi piace Commentate Se volete Che continui la serie E ditemi cosa ne pensate Di questo episodio Ditemi se vi è piaciuta Quella kills Che tanto Quello l'avremmo ucciso Lo stesso Era messo male Aveva solo L'arco potente La spada potente Ma Non aveva tanta armatura L'avrei ucciso lo stesso Quindi Comunque Avrebbe perso Quella battaglia E' stata fantastica Sinceramente Poteva lasciarmi Fin da subito Non capisco Che è rimasto lì A guardarmi Ditemi cosa ne pensate Nei commenti E ci vediamo Un prossimo video Ciao ciao Un prossimo video Un prossimo video Grazie.